Siamo alla conclusione della liturgia, della dedicazione della Chiesa Santuario della Madonna di Fatima, qui in Soveria. Questa Chiesa aspettava di essere finita e noi abbiamo insieme al popolo, insieme al popolo hanno fatto uno sforzo veramente grande e hanno rifinito del tutto perché potesse essere aperta appunto al pubblico. Noi siamo grati a tutti coloro che hanno collaborato, siamo grati a tutti quelli che hanno dato del loro lavoro perché potessimo finire la Chiesa nello stesso tempo e oggi celebrare appunto questa dedicazione che ha visto tanto popolo affollare la Chiesa ma soprattutto in una liturgia che ha creato tanta attenzione e tanta devozione. Grazie 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 Grazie